Io dico Green per uno sviluppo sostenibile, per una comunità consapevole e questo lo slogan in materia di questione ambientale di Michele Mazzarano, consigliere regionale uscente e ricandidato per il Partito Democratico appunto alla carica di consigliere regionale. E allora Mazzarano parliamo di questo suo slogan, cosa vuol dire, cosa intende con l'espressione appunto io dico Green? Io dico Green non è una svolta ambientalista, io dico Green è il senso di una consapevolezza moderna, la consapevolezza che ad esempio ci tramanda il movimento internazionale dei giovani del Friday for Future che ci trasmette l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, è un modo nuovo di concepire i problemi moderni ed è un modo nuovo anche per risolverli solo attraverso una radicale trasformazione del modello di sviluppo che deve essere un modello di sviluppo sostenibile e fondato sui criteri di sostenibilità e sui criteri di ponderazione e prudenza. Solo in questo modo noi riusciremo a fare fronte a problemi grandi come i mutamenti climatici, le pandemie, la fine della grande foresta amazzone, una serie di questioni che oggi interessano il pianeta e che hanno un riverbero sulla vita nostra, sulla vita dei nostri figli, sull'agricoltura, sul turismo, sulla tutela del mare. Ecco, mettere al centro i beni più importanti del nostro paesaggio, della nostra vita deve poter consentire di immaginare un modo nuovo di produrre e un modo nuovo di consumare. Io dico Green è la consapevolezza che deve cambiare completamente questo per poter vivere in un pianeta abitabile soprattutto per i nostri figli.